E' questo Crepusculum? Oddio! Riesco a fare un loce di stelle più? Ma tu focalizza quei due piccoli cosi Oddio adesso Crebius fa male la tipa Ah non tolgo niente con il coso di luce da quella eh Bestia ma siete via di testa o cosa? Eh abbiamo scelto difficoltà facile Mica Dai tiriamo giù questa roba Non so perché non mi interrompa Ok Lui sta prendendo pizze come non so che cosa Mi ha paralizzato l'altro Ah non toglie niente Ma che cribbio Allora fai un luce di stelle su Quella Un taglio che ti gida Su quella sempre Cribbio Oddio ma qua non ce la faremo mai Che cribbio Forse non ci siamo allenati abbastanza Non siamo saliti abbastanza di livello No non ce la faremo mai verli O almeno non così Dai ce la fate tirare giù almeno una di quelle Dai luce di stelle Su lei Io direi di cambiarlo con Rubella Perché Rubella Se non altro ci dà il La cura Eh dai Possiamo farcela Dobbiamo Più che altro Quindi costura lenta un po' Questa ambarada E tu No aspetta Fai un luce di stelle Su quella Ma è quella luce che ha quella Che hai chiuso a casa Ma sta ancora perfetto Ah no Ok però togli solo 9 Però togli solo 9 Rubella Dovrei metterci il potenziamento di luce Mi ha anche rallentato Cribbio Devi curare Rubella Per forza Prima che ti interrompano Cura Io direi un difesa Perché poi ci tirano giù come niente Non so come potremmo farcelo ai ragazzi Perché qua la situazione è molto grave Cosa ha fatto lei Non l'ho visto Dai Aurora Fai un luce di stelle Su lei E tu fai un cura su te stessa Si conviene Si conviene Il problema è che Aurora finirà presso i punti magia anche Cribbio Adesso cosa fa questa Eeeh Grandioso Rubella Schivato Alla faccia di un bruscola Come si chiama quella Baradar Però Aurora è davvero troppo lenta Comunque l'affare là Comunque il rallentamento Del Cribbio Cos'è questo? Anti alterazione Più E se mettessi un'alti alterazione Più? Bah Proviamo Così non mi rallenta Vai su quella Dai che è quasi Morta Oddio Questa sta Si sta velocizzando Raccogli sta roba Ecco niente Sii Ok una è andata No non riuscirò Non riuscirò a rallentarla abbastanza Vivifica Ma facciamo una cura Perché qua tanto Non è che faccio Chissà quanti danni Con il corpo No ma È inutile rallentarla Perché tanto cosa Eh è troppo veloce Ma non ho capito Se recupera vita Comunque l'affare là Luce di stelle Su quella No non la rallento Primavera riesco Anche a fermarla No Ah interrompela Infatti no non riesco Però Almeno facciamo un po' di danni Dai 195 Not bad Tu vai con un Colpo No fai un culo Su te stessa Oh perfetto Non mi ha interrotto neanche Ora che siamo due contro due La cosa è molto più gestibile Cribbio Mi ha seccato Aurora Ho bisogno di un Vivifica di Rubella Ecco magari non sperchiamo Tutto là Allora fai una luce di stelle là E tu fai un Cura su di lei Ma facciamo un colpo Anche se faranno Praticamente niente Infatti 18 Con colpo critico Perciò ci vorrebbe Robert Dopo Come rallentamento Aveva l'antialterazione Più Ah ha fatto una Rigenerazione automatica Diciamo Allora tu fai un Conviene fare un colpo Per interrompere lei Ok così non mi ha interrotto Non ha più punti Magia però Aurora Ah ce l'ha fatto Un aumento D'anni Temo che non ce lo faremo Ah non ha più punti Magia Avrei dovuto Avrei dovuto Usare la cura Vabbè mi avrebbe interrotto Comunque Uh Ma non ha dato nessun punto Umana Prova il fendente più Tanto sono un po' E tu devi fare una cura su Te stessa prima Mi spiace di loro ma sei più importante di Aurora Perché Aurora puoi vivificarla ma Però se tu finisci i punti magia come Cribbio faccio Dobbiamo tirare giù lei prima Un colpo su lei Magari farà niente Però ne abbiamo assolutamente bisogno Non ripristina punti in mana quello Cribbio Temo dovrò Dovrò ricorrere alle Vili pozioni Perché non ho Non ho messo Il danni da luce Avessi messo i danni da luce Probabilmente Farei molti più danni Con il colpo normale Però Eh fai un colpo là Almeno la interrompi Eh vai Adesso ti farà un fracco di danni Abbastanza Oddio 72 più rallentamento Finn tra l'altro non ha cose da Lure se non sbaglio Non ho neanche più vivifica No Conviene fare cura su Aurora Fintanto che posso No Molto lungo No Non ce la faccio E al prossimo devo cambiare persona Perché rubare la nostra Non c'è più niente Purtroppo Robert Sì I need Robert E rischi che venga interrotto Ne ho con difesa Infatti No 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 Nicolus è smonco Ce la farò lanciare No Per il colpo è lungo Antidetto è breve Ma Sì Proviamo No No Ah Aumenta il colpo critico Ma Stiamo Stiamo togliendo davvero Troppo poco Come facciamo a tirare la giusta In baradà Qua Vai con una pioggia di frecce Ne abbiamo bisogno Ti prego Ti prego Robert Ti prego Al pelo Adesso ti faranno un pacco di danni Infatti 96 danni Oddio Contrattacca l'interruzione Curando di così tanto Non è possibile Cribbio Fai un Fendente più Dovresti avere Sufficiente tempo Non interrompere la plizz La curata di 84 Come facciamo a tirarlo giù Mi ha paralizzato l'ora Bello No Dovrò interrompere E quindi ci farà un fracco di danni Ehi Ha fatto male a lei No Adesso curerò tutti e due Infatti molto grave Forse a questo punto Dobbiamo tirare giù Prima lei Cribbio Cribbio Ma lei ha la testa ancora bella alta Conviene pioggia di frecce Ma ce la facciamo Sì Oddio Aurora No Egnicolus Egnicolus Salvala Salvala Poi c'è anche la musica epica Dietro Che ci fa sentire Tipo Sull'orlo del disastro Fendente più Ci proviamo Inicolus Non può rallentare Un ficcosecco E riesci a Tipo Autocurarti No Cribbio O ci interrompe O ci rallente O comunque Infatti Bestia No Lui Dobbiamo cambiarlo Assolutamente Fendente Fendente su lei E tu Fendente Mezzo Morto Tristis Finn Proviamo con Finn Che magia Lui Fuoco Fuoco Monsone Folgore Momento Ho sbagliato Beh se una volta Ho fatto 110 A quella Sì che Nel cuore Di 81 Però No Meglio che vadano Avanti loro Meglio che vadano Avanti loro Meglio che vadano Avanti loro Se no ci Steccano Come Non so che cosa Oddio Ha fatto un aumento Danni a quell'altro Lombara Forse Dovano Livellare Un po' Di più Fendente 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 Fai con un fendente Diretto solo su lei Sì Ok Ora è rimasta Solo più lei Schivata Ma bestia Vorrei o no Morire Mi ha paralizzato Fai fuoco Indomabile Fintanto che riesci E Nicolus Cura tutto Quello che puoi Visto che Rubella è fuori Gioco Dio No Ok Temevo Che la interrompesse Se l'avesse interrotta Sarebbe stato Un Casino pazzo Otto No Non ha senso Fare Sprecare Mana Per questo Oddio Prova Prova col fendente Più E Nicolus Ce la fai rallentare Un po' Rallenta Tutto quello Che riesci Ok 64 No Ti conviene Difesa Cyber Crebio Neanche Fin Sta tanto Bene Oh Signore Si Oh Dai Cura 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 Ancora Dieci Ok Qui gli altri Ci riteniamo Per rallentarla Prova con Una percossa Ma proviamo Con il Con la E però La percossa È più breve Stai il fuoco Spendiamo Un fracco Di punti E facciamo Niente 48 Appunto Meglio Senza Fuoco Ti deciderai Ad abbassare Il capo Aumento Colpo Critico No È meglio Che vada Davanti Lei Perché Sennò Rischio Di Interromperla E Se la Interrompo Non è Servito Niente Tutto Quello Che Abbiamo Fatto Ha paralizzato Aurora Nulla Di Troppo Grave È ancora Bella Che Impiedi Grande Schivata Ok Raccogli Tutti Gli Affarini Là E Facciamo Un Fendente Dai Ragazzi Forse Ce la Facciamo No Rialza Ancora Il capo Yes Grande Grande Aurora Grande Fai un Fendente Fin Fai una Percossa Dai Fatele Chinare Sto Cavolo Di Capo Non Avrà Una Vita Infinita No Sì Dai Forza Di Pizza In Faccia La Tireremo Giù No Intanto Nikulus Datti Da Fare Uh Sì 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 Nikulus Consuma Tutto Quello Che Puoi Che Abbiamo Ancora Fare Là Sotto 220 235 Ancora 2 40 Sì Perfetto E cura Un po Fin 174 184 194 Arriviamo 204 Dai Ok Fai una Percossa E Aurora Vai Grande A botte Di 100 Alla Volta Ce la Faremo Tirarla Giù Non so Concentrazione Cosa Serve Effettivamente Dai 48 Ce la Facciamo È solo Corsione Di tempo Crebio Mi ha seccato Un colpo Solo Scusa Posso fare Tristis Al posto Di Fin Non ho Praticamente Niente Ma è sempre Meglio Che niente Fin L'ha seccato 67 Meglio Ancora Adesso Adesso Mi paralizza Chi Aurora Tristis Sei lento Bestia Però Un colpo breve Dove No Fai difesa Bella Bimba No Scusa Ah no Tutti due Pieni Ok L'ho Sprecato Ci spuglietta Ha fatto Concentrazione Ma Sì 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 Grandissimi Ciurma Ce l'abbiamo Fatta Sì Sì Grandi livelli Per tutti Aurora Sale di livello Tristis Sale di livello Finn Sale di livello Rubella Sale di livello Anche Lui Sale di livello Robert Sale di livello Nora no Perché Un diamante levigato Bestia La luna Per ora Ti apparterrà Ma mia madre Alla fine Ti ucciderà Decisamente Meglio Aurora Yeah Ehi Aurora Dove mai sarà andata E Nikolus Sei ancora più piccino Sarà la luce Della luna Ma tu sei più grande Non io piccolino Importano poco Le sue dimensioni Un drago Abbiamo vinto Siamo incredibili Insieme spacciamo Qualunque nemico Noi siamo una squadra Di erai Invincibili Che facciamo ora? Il sole C'è da recuperare Nel più basso Del basso Presto Ci dobbiamo sbrigare Noi punti Abilità Grandioso Allora Due punti Ci avviciniamo Verso il fendente Due Che ci servirà Di sicuro Allora Rubella Che c'è tanto servita Fino a che non C'ho lasciato Un difeso Tre bestia No No Stavamo andando Stavamo andando In questa direzione Suppongo di sì Perché questa L'abbiamo finita Sì Quindi difesa tre Fino a due punti Ci stavamo Avviando Verso Questo Ecco qua Ah no Scusa Ha sbloccato Delle parti nuove Qua un pioggia Di frecce Due Però se mi cambiano Le carte in tavola Qua mi perdo Uh c'è anche un pioggia Di frecce Tre Adesso Qua Ah Dove che eravamo Colpo più Magie prolungate E aumento Difesa magica Salute di tre livelli Come si chiama lui Oh Oh Non lo dice Qua No credo che fossimo partiti di qua E stessimo andando di qua Taglio catteggi da più Ok Vorrei inventare Noi abbiamo delle polveri Che forse è meglio utilizzare Tipo una polvere dei pf Da usare su aurora Direi Polvere della forza Da usare su aurora Polvere della magia Io direi su rubella Della schivata Su aurora Perfetto Grandio Credo che sia passato Un'eternità Ragazzi Infatti 50 minuti Ragazzi Non lo accoricherò mai In questo video Oddio Oddio Io vi saluto Mi invito a mettere un mi piace Mi invito a scrivere un commento Mi trovate su facebook Link in descrizione Io vi saluto Ciao a tutti Corro a renderizzare il video Oddio Oddio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti